Non si arresta lo scontro al comune di Pozzuoli tra amministrazione e sigle sindacali, circa la sorte dei 204 dipendenti municipali in esubero inseriti in quella che ormai in molti da mesi definiscono la lista nera che il sindaco Figliolia ha candidato al prepensionamento. Sono infatti giorni di attesa per i rappresentanti di Cisle e Will che accantonato ogni tavolo di trattativa hanno fatto sapere in una nota protocollata lo scorso gennaio di essere ricorsi alle vie legali per il comportamento a loro dire antisindacale dell'amministrazione in merito all'approvazione delle delibere 100, 103 e 104 dello scorso autunno. Il primo cittadino si pronunciò sulla questione già nel giugno del 2014 sulla scorta dei dati non proprio confortanti del consuntivo 2013. Per ogni 150 dipendenti comunali il costo per la collettività, precisò allora il sindaco, sarebbe di 10 milioni di euro l'anno. Di qui le proteste di quanti, privati di buonimenza e straordinari, non erano molto propensi ad abbandonare il servizio. Di qui del resto la determinazione dell'amministrazione avallata dalla riforma della pubblica amministrazione del governo. Intanto, al momento, i sindacati attendono il pronunciamento del giudice del lavoro, previsto per il prossimo 18 marzo, al quale chiedono la revoca delle delibere in oggetto e un chiarimento circa il ruolo dell'Inps, limitato a loro dire alla sola certificazione dei requisiti soggettivi, che in caso di assenza rischierebbero di esporre i lavoratori alla condizione di disponibilità, cioè la scelta tra la mobilità e l'80% dello stipendio di base per due anni e poi più nulla fino alla pensione. Ma in un'altra nota, Giovanni Capuano, capo area Napoli Nord della CISL, rivolge un duro attacco ai dirigenti, al presidente della delegazione trattante Sperandeo, al sindaco e in parte al comandante pubblico, responsabile a suo dire di aver promosso una politica di serie A per i luogotenenti della Polizia Municipale, relegando altri 900 lavoratori alla non erogazione del salario accessorio. A chi spetti scendere in campo e a chi tocchi la panchina sarà il Tribunale a stabilirlo. Intanto per ora una certezza, la partita con le rappresentanze sindacali rimarrà per l'amministrazione la sfida più difficile. Grazie! Grazie!